a Geric eh si diamogli qualcosa da fare una delle cose che dovrebbe fare Alexa domenica no che puoi fare uno schifo ci mancherebbe altro no diamogli una cosa puoi fare chat qualcosa ma scusa ma è a casa del barbaco qua ci sta bellissimo che c'è? hai spinto il cavallo di sotto ma che gli è stato tirato le frecce scusami l'hai buttato nel burrone e ormai era segnato guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda cosa gli hai fatto vai giù pezzo di non c'è monaco sborra no no dai dai la sei svolissima ho passato il provino oddio ma ce n'è un altro in alla là tu avevi passato il provino hai dovuto fare un abuso di potere bello e buono no no dai non ho ancora potere quindi non l'ho abusato ok